Ufficializzata la ricandidatura di Ginetta Menchetti alle prossime elezioni, intanto se possiamo trarre un bilancio del suo primo mandato da sindaco. Sono stati sicuramente cinque anni molto complessi, pieni di tanti sacrifici ma di altre tante soddisfazioni. È stato questo lo stimolo alla richiesta della mia ricandidatura che mi ha fatto decidere per ripropormi al servizio dei miei cittadini per ulteriori cinque anni. Sono esperienze coinvolgenti, travolgenti ma io credo che vale la pena poter vivere e quindi vorrei concludere con questi prossimi cinque anni tutta quella serie di progetti che ho avviato nella prima legislatura e poterne vedere finalmente i risultati. Ecco appunto, proprio per quanto riguarda il programma, quali sono i punti centrali? I punti centrali sono vari, dobbiamo partire dal lavoro perché è importante l'occupazione, abbiamo troppi giovani che non riescono a trovare lavoro, da uno sviluppo sostenibile del territorio perché i due temi devono andare di pari passo in perfetto equilibrio, siamo per uno sviluppo industriale ma diciamo ecosostenibile quindi che porti ad una tutela comunque del territorio e vogliamo puntare soprattutto nella valorizzazione delle nostre bellezze culturali e ambientali e quindi in un particolare tipo di turismo, quel turismo che si dice slow, quel turismo lento, fatto di micro accoglienza, fatto di piccoli band and breakfast, agriturismi. Noi negli ultimi dieci anni abbiamo più che raddoppiato la presenza di queste strutture e pensiamo che siano un valore importante da poter promuovere e portare appunto a conoscere nel mondo. Quali sono le realtà che fanno parte della sua lista oltre al Partito Democratico? La nostra lista è una lista di centro-sinistra dove oltre al Partito Democratico vi confluiscono il Partito Socialista Italiano e il Movimento Arezzo in Comune.